Gustav, io non c'entro, non posso pensare di fare tutto il viaggio così. Cioè, come ti è venuto in mente riprendere questa vecchia città? Ma dobbiamo, dobbiamo cercare. Vedrai che c'entri. Cioè, deve essere un viaggio reale. Non è un viaggio reale, ma in treno, Gustav. Ma in treno non è la stessa cosa. Gustav, però devi un po' correre, se no non arriveremo mai da George Clooney. Ma c'è il limite di 30. Non posso correre. Il viaggio reale non doveva chiudere. Non è un marchio qualunque, è un marchio che è conosciuto in tutto il mondo. Io 1000 euro, pago 500-600 euro di mutuo, mi rimangono 400 euro. Se volete mandare a casa, ve lo sono, vincete le elezioni. Abbiamo un presidente ragazzino e lei è vecchio. Via da me i vecchi! Mi sono proprio fermato e ho detto, no. Non è solo che non mi piace, è che non va bene che vada in onda questa roba. Ma ora perché ti sei fermato? C'è il semaforo rosso. Ah, Gustav, ma ancora non hai capito? In Italia la segnaletica la devi interpretare, è più un suggerimento. Non è, capito, un'imposizione. Che fosse un paese più accogliente e più giusto. Non ci avvicina neanche più nella chiesa. Diciamo niente, noi siamo come quelle le brose. Che rimane ancora? Conosco molto bene tutti gli argomenti per cui avrebbe voglia di scappare da questo paese. Io credo che si abbia il dovere non di fuggire, ma di restare sul posto e di non mollare mai. Grazie.